E' finita la fuga di Alexandra Fantenau, 39enne, originaria della Romania e latitante da ben due anni. La donna, destinataria di due mandati di cattura europei per traffico internazionale di droga, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo nel piccolo comune cilentano di Giungano. L'arresto è avvenuto al termine di un'indagine condotta sotto la direzione del luogotenente Giuseppe D'Agostino, insospettiti dalla frequentazione della donna con un noto pregiudicato locale, già coinvolto in precedenti legati al traffico di stupefacenti. La 39enne è stata condannata a una pena detentiva di 12 anni dal tribunale di Timis in Romania per traffico di stupefacenti ad alto rischio in forma continuata. Irreperibile da tempo era inserita nella lista dei criminali più ricercati dalla polizia rumena. L'operazione, condotta dai militari dell'arma in coordinamento con la compagnia di Agropoli, guidata dal capitano Colella, ha posto fine alla latitanza della 39enne. Dopo l'arresto, i carabinieri hanno informato la procura generale presso la corte di appello di Salerno e hanno tradotto la Fantenau presso il carcere di Forni. La donna non era nuova alle forze dell'ordine italiane. Giunta in Italia nel 2016 con la copertura di un impiego come badante, era stata arrestata a Napoli nel quartiere di Scampia, dopo essere stata sorpresa dai carabinieri a girare con fare sospetto in via Galimberti. Durante la perquisizione furono trovati 52 bussolotti di eroina nascosti nella sua borsa e nelle tasque, un quantitativo destinato allo spaccio. A seguito dell'arresto venne condotta al carcere femminile di Pozzuoli. La sua attività criminale non si era fermata, portandola ad essere uno dei principali elementi di un traffico internazionale di stupefacenti fino alla sua cattura definitiva nel Cilento.